il mare ciao il pilota Giovanni che non trova più il suo portafoglio tu sei arrivato e mangi subito no siete pronti? un commento al caldo prima di noi siamo pronti anzi a freddo visto che non abbiamo incominciato per il crimine archiria non stare sempre al telefono mi spacco la lui è il crimine archiria io appena iniziamo Fabio non lo sa ma ero steso con i scarponi sul suo pezzo di dietro su sedino quando si trova la sorpresina tutto sporco per ora è solo una sorpresa forse si cazza quando lo scopo quindi facciamo vedere il filmato così no qua il nostro geometra colui che ha determinato la creazione delle cartine grandioso il presidente? amico che dice il presidente? che cosa è? bravo 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 non so siamo molto contenti di avverti qua oggi perchè per noi è è la nostra manifestazione Leggettivo ho r petition. Grazie a tutti. Siamo a un chilometro dal Viettifo 1 che è posizionato in fondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.